Gana di ritorno con Verona, di nuovo una partita difficile, combattutissima, è arrivata una seconda confitta, però cosa ci è mancato? Soprattutto nel primo e nel secondo set era stata una lotta punto a punto. Ci è mancato poco, quando vediamo i due primi set, quando vediamo i score, ci abbiamo mancato poco poco, non so che cosa ancora dobbiamo vedere, forse un giro in battuta o meno efficacità in attacco, non lo so, hanno difesato molto bene, sì, ha mancato poco, però mi sembra che alla fine di questa partita abbiamo preso un schiaffone, un colpo direi, siamo un po', sì, abbiamo preso un colpo, 3-0 qua, non ci aspettavamo, volevamo fare un altro risultato, però è così, abbiamo mancato forse un po' di aggressività, una squadra che è molto fisica, non abbiamo riuscito a trovare soluzioni, non so che cosa dire, adesso dobbiamo mettere la testa sulla prossima partita, abbiamo una settimana per lavorare, stiamo lavorando molto bene, su questa cosa non c'è problema, dopo dobbiamo trasferire questo lavoro sul campo, una bella squadra fisica così, ma è difficile, però abbiamo dimostrato tante cose belle, prima e poi, dai, dobbiamo fare come questa partita, non è mai, sì, questa la buttiamo via, pensiamo alle altre che arrivano, siamo una squadra unita con l'energia, la voglia, il piacere di giocare, secondo me ce l'ha mancato questa cosa, anche forse un po' stasera.